giusto? si ottimo siamo troppo forti andiamo muoviti non è concluso niente praticamente allora qua non c'è niente non mi conviene scendere aspett come? ah si deve far scendere sto coso immagino che non funziona cioè osserva questo no a quanto per no che palle oh che 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 ah fa un culo pensavo che ero ok ok si sale si scende ah no ma giusta ste cose ottimo e e ora possiamo far girare senza problemi quindi credo che ci abbassi pure quella leva in modo che possiamo salire giusto? quella ok wait ottimo saliamo ok ora ci sono nemici? no non credo no ci sono nemici? non credo Uh, un'altra battaglia con questa Puglia è rascimento di mijo Fui, fui, fui... Fui, 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 fui. Fuk, 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 fuk... E due Dai che muori Dai che muori Dai che forse ti piglio No Dai che ti piglio Dai che ti piglio E tre Colpo finale Questo mi è piaciuto E uno Staparte mi piace Troppo assai Ottimo E non ci abbiamo perso Manco troppo tempo Come l'altra volta Mo' si inizia La La retromarcia Tra virgolette Che è la parte Che è la parte che più Rompe di solito Vaffanculo Do cazzo vai Vai questo raggio Fa male Bastardo Pur qua Pur qua Pur qua Pur qua Pur qua Ottimo E ora Scendiamo Scendiamo Ok Ok Immagino Immagino Eccolo qua Oh Gesù No Che paura Wait No Pensavo Qualcosa di più complesso No No Ah Cazzo Non Eccolo Che paura Che paura Che paura Sì, 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 sì. Aspetta Aspetta Qua la mappa portava pure la presenza di qualcosa verde sulla mappa Quindi salendo possiamo anche raggiungere l'artefatto Perfetto Let's go here La vita che ci serve Cazzo Ottimo Guarda chi c'è Ciao Guarda chi c'è Guarda chi c'è Guarda chi c'è Oh, tu stai scemendo, fra Pfff, vaffanculo, va Alleluia E ci voleva tanto Boom Ora Voglio capire Ora O I Capito, capito Capito, capito Capito, capito Capito, capito Avanti Quanto cazzo è lunga sta discesa? Ottimo Vediamo Ottimo Finalmente Quanto Straga Aspetta Così alla fine sei riuscito a durare più della tua utilità, Azrael E come proponi di lasciare la torre una volta che Straga sia stato sistemato? Straga e la torre sono tutt'uno Se anche riuscissi a sconfiggerlo, sareste in trappola senza di me Ci serve Prega che il cavaliere non torni vivo Straga